Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Le parole della dottoressa Antonietta Lonigro, in rappresentanza della Commissione Straordinaria. Una cerimonia semplice, a ricordo e monito, alla presenza delle forze dell'ordine, delle associazioni combattentistiche e degli studenti. Il coro Antonio Le Grottaglie ha intonato l'inno nazionale suonato dalla banda musicale Città di Ostuni. In questo giorno il pensiero va a quanti hanno sofferto, sino all'estremo sacrificio, per lasciare alle giovani generazioni un'Italia unita, indipendente, libera e democratica. L'intervista di Giuseppe Severano. Abbiamo i microfoni di Radio Stuni, la dottoressa Antonietta Lonigro, vice prefetto, nonché componente della Commissione Straordinaria che regge le sorti del Comune di Stuni. Dottoressa, abbiamo ascoltato il suo discorso qui al Monumento ai Caduti, un discorso dal quale si vedeva la sua commozione nel leggerlo. Questa è una data fondamentale per tutti noi italiani e per la comunità di Ostuni. Con Viva Gioia ho visto la partecipazione di tutti, quindi come non essere commossa. Commossa anche per i ricordi della mia infanzia, il ricordo di mio padre, era un militare, faceva parte dell'arma dei carabinieri. Quindi io ho sempre vissuto con molta devozione questa data, questa festività. Quale messaggio vorrebbe donare e lasciare ai nostri ragazzi che oggi hanno partecipato numerosissimi con lo sventolare delle bandiere tricolori? Quello che preoccupa nei ragazzi è la passività, per cui quello che mi piacerebbe aver lasciato è l'invito a dialogare con i propri genitori e con i propri nonni, ma anche con le associazioni combattentistiche che vedo qui, numerose partecipanti. Bisogna tramandare questo ricordo perché senza il ricordo cosa siamo? Cosa siamo? È importante, importante come in un gioco sportivo passare la staffetta. Un attento cittadino fa notare la mancanza della segnaletica sia verticale che orizzontale che stabilisce lo stop in prossimità del rondò per rimettersi su via panoramica o per dirigersi a Cisterlino. L'automobilista che giunge da via padre Serafino Tamborrino in direzione del rondò pensando di avere la precedenza prosegue incautamente la sua corsa, altrettanto fa l'automobilista che arriva da via Lepola. L'ufficio preposto cortesamente intervenga. Stamane con inizio alle 9 presso l'hotel Monte Sarago, ultima giornata congressuale sulla pneumologia nella Città Bianca. Update in malattie respiratorie a cura del dottor Pierluigi Bracciale, responsabile scientifico. La quinta sessione di oggi riguarderà gli aggiornamenti sulla insufficienza respiratoria e sulla patologia neoplastica polmonare attraverso gli interventi di illustri e preparati relatori. Ritorna su Raggiostuni, raccontami di te, terzo appuntamento di intrattenimento dedicato ai giovani. Conduce Martina insieme ai suoi ospiti, questo pomeriggio alle 16 e 30. In programmazione allo Slow Cinema, fino a lunedì 7 novembre, il film Astolfo di Gianni Di Gregorio. Il regista parla di vita e di amore con la solita, irresistibile semplicità. Spettacoli alle 18 e 30 e alle 21. Sport, calcio a 5, quinta giornata del campionato di Serie C2. Il Futsal Ostuni affronta il Coco On Fasano, inizio alle 16. Si gioca a Fasano presso la palestra Salbemini. Per chi ritira in contanti la pensione di novembre presso l'ufficio postale, ecco la turnazione alfabetica. Oggi dalla lettera L alla lettera O. Il bollettino di ieri registra 1.195 contagi in Puglia e 5 decessi. 160 casi Covid nella nostra provincia. La farmacia Denitto effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo, tempo instabile a tratti perturbato con piogge rovesci localmente anche intensi. Temperature in netto calo, venti moderati a tratti forti, mari molto mossi. Citazione odierna, diffidate delle persone che puzzano di perfezione perché la vita è fatta di sbagli e di ferite. Sereno sabato. Grazie a tutti.